Salve ragazzi e salve ragazze! Buonasera, buonanotte, beh, diciamo che è un po' tardi. Ah, vi rassicuro, la signora anziana ha ricominciato con la storia del rosario la mattina alle 5 e si vede che è tornata a Roma in pianta stabile. L'estate fa caldo, va fuori, io dormo e l'estate niente. Prego, prego anche io. Solo che credo di annullarle il rosario perché ogni preghiera che sento a me verrebbe da dire una gran parolaccia. A quell'ora non la dico, per rispetto e anche per entrare un attimo in argomento questa sera. Quindi bisogna comportarsi bene, il nostro lato umano va educato. Benvenga, trasformiamolo per energia, per fare altre cose. Io scherzo ovviamente. Tarocchi degli Angeli, tra l'altro, un mazzetto, regalo, dono prezioso di una di voi. Lo utilizzeremo per una canalizzazione, come avete potuto vedere la giornata l'ho trascorsa all'Aquila. È stata una giornata molto intensa, con l'emaggio meravigliosa. E direi che c'è tutta l'atmosfera questa sera per fare una canalizzazione con i Tarocchi degli Angeli, un messaggio degli Angeli a questo punto. Selezionerò 12 carte. E andiamo a vedere un pochino cosa hanno da dirci. L'energia della giornata. Io vi ringrazio per i commenti. Mi dispiace che molte persone non riescano a trovare il tasto degli abbonamenti, anche per vedere le informazioni che ci sono sull'home page. Non ho idea del perché non compaia, sinceramente. Molti si sono abbonati e credo abbiano trovato facilmente il tasto. Altrimenti controllate nella community. Ogni tanto inserisco il link. Oppure scrivetemi per email e vi inoltre ho il link. Allora, anche perché leggere non è vincolante in nessun modo. Vediamo un pochino questa sera cos'è che ci dico in carte. Ne selezioniamo allora 12. Eccoci qua. Gli ultimi saranno i primi. È proprio vero. Allora, iniziamo un pochino. Entriamo in atmosfera. Non dovete scegliere nulla. Il messaggio è per tutti noi, per tutte noi. Qualcosa arriverà sicuramente a ciascuno. Forse per alcuni risuonerà tutto, per altri magari risuonerà solo una parola. Se non dovesse risuonare nulla, può accadere. Io vi ringrazio comunque per l'attenzione. Stai lavorando da molto tempo e stai lavorando anche da solo, da sola. Hai investito tanto. Stai lavorando molto dentro di te e nella tua testa. Non dai a vedere quello che hai in mente, ma hai progetti grandi e una grande lungimiranza. C'è qualcosa di te che fin da ragazzina, da ragazzino ti ha spinto a credere. Non tanto a credere in te, perché a volte ti sei anche gettato giù, gettata giù, ma a credere che ce l'avresti comunque fatta. Perché? Perché c'è qualcosa che ti chiama e tu in quella voce credi. Non è il frutto della tua fantasia. E se questo qualcosa ti sta chiamando e l'energia che percepisci non è assolutamente brutta, non può volere male. Non può volerti far del male. C'è qualcosa al tuo fianco che ti consiglia di proseguire, di continuare e di credere sempre, fino all'ultimo, di provare. E di investire, perché quello che ti tornerà indietro saranno interessi. Saranno interessi tangibili e saranno tanti interessi. E non sarà solo una condizione materiale, ma sarà una condizione esistenziale. Sarà una forza d'animo, soprattutto l'energia che si impossesserà di te. O meglio, sarai tu che finalmente diventerai padrone di quella forza d'animo che hai sempre avuto. Dalla quale sei stato gestito, accompagnato, consigliato e protetto, ma che stai imparando a gestire. Non temere, non sei mai stato solo. Eri circondato proprio da quelle energie che ti chiamavano e che con te giocavano. Non ti hanno mai abbandonato. Anzi, a volte nei momenti di scoramento, nei momenti di vuoto, di apparente solitudine, sono state la tua migliore compagnia. A volte non le hai viste, a volte hai visto dei segni, ma le hai sempre percepite. Hai sempre sentito che qualcuno ti conosceva bene. Molto più delle persone che ti circondano. Molto più delle persone che ti amano. E molto più anche delle persone che ti vogliono bene. Talmente bene da giocare anche la propria vita per te. Molto più dei tuoi genitori, molto più dei tuoi grandi amori. Ci sono delle energie silenziose che non parlano, ma in qualche modo si fanno intendere. E tu sei sempre stato cosciente del fatto che avessero un ruolo. E non fossero solo una compagnia, ma dovessero svolgere qualcosa. E questo qualcosa riguardava proprio te. E' così che ti sei affidato. E' così che hai intrapreso la strada anche quando l'orizzonte sembrava non promettere nulla di buono. E' così che lì dove c'erano delle rovine tu hai visto con profonda lungimiranza nuovi paesaggi. E non hai mai avuto paura, perché quando non le sentivi al tuo fianco tu sapevi che quelle energie erano dietro di te. A volte rallentavano, in modo da poterti permettere di osare, di sperimentare il tuo libero arbitrio. Anche perché quelle energie non avevano assolutamente il compito di impedirti di fare scelte o di compiere azioni, ma solo di raccoglierti e aiutarti a rialzarti nei momenti della caduta. Sapessi quanto hanno sofferto nel vederti sbagliare a volte, ma hanno sempre saputo che l'esperienza era un qualcosa di pedagogico e che il tuo karma ne avrebbe giovato. Il loro ruolo era quello di mettere la mano sulla spalla, e forse li avrai anche percepiti tante volte, di rassicurarti e di dire, non preoccuparti, andiamo avanti insieme. Non avere timore, anche quando sembra che tutto sia per tutto e che intorno a te ci siano solamente momenti di confusione, di caos. Non dimenticare che quello che tu stai facendo, quello che stai seminando, e che un giorno germoglierà, ti ricoprirà, ti ricoprirà di doni, ti ricoprirà di energie positive, ti ricoprirà di benedizioni e ti restituirà quello che tu hai seminato, perché ti sei radicata, ti sei radicato su quello che poi in fondo all'inizio è stato un gradino. A volte è stato un ostacolo, ma diventerà il trono, il trono sul quale siederai, in maniera metaforica, ma sarà comunque il tuo sostegno. Ed è quello il momento in cui, quando finalmente sarai lì sul tuo trono, e saprai, perché lo capirai, che la base che hai costruito, ciò che è sotto i tuoi piedi è solido, nel momento in cui capirai, stringendolo tra le mani e avendone coscienza nel cuore e nella testa, che quello che hai dato ti sta tornando indietro, quando tutte le paure e i conflitti si placheranno, capirai che anche nei momenti di caduta, e anche nei momenti di tentazione, anche nei momenti più difficili, quelle energie che hai pensato negative, perché tu sei molto percettiva, percettivo, e non senti solamente l'energia positiva al tuo fianco, in realtà negative non erano, erano semplicemente quella differenza di potenziale necessaria per far sì che le energie positive potessero risplendere. Se in alcuni momenti non fosse giunto il buio, il silenzio, la solitudine, il vuoto dentro di te, mai saresti stato in grado di riuscire a scorgere la presenza di una luce, perché è quando si è circondati totalmente di luce che non si riesce più a vedere, per quanta luce c'è. A volte c'è bisogno di cadere per poter capire a quali altezze si è arrivati, perché nel momento in cui, con molta fatica, ci si tira su, di nuovo la nostra prospettiva cambia, e ci rendiamo conto di quanto questa prospettiva si sia alzata, rispetto all'inizio del nostro percorso. Non temere dunque, anche quando ci sono quei momenti in cui a volte sembra che queste energie ti abbiano abbandonato. Lo abbiamo detto, ti lasciano andare avanti, non ti abbandonano mai, a volte sembrano ferme, a volte devono fermarsi, perché non possono impedirti di cadere lì dove questo deve avvenire. E a volte anche loro soffrono nel vederti accusare colpi della vita, ma sanno che puoi superarli, e sanno che gli ostacoli non saranno mai superiori alle forze che ti sono concesse per affrontarli e per lasciarli alle tue spalle. Loro ti guarderanno sempre con amore e sempre con benedizione. A volte dovranno alzare le mani anche su scelte che farai, e che sai già essere sbagliate. E loro sanno che tu questo già lo sai. Eppure dovranno accettare. Dovranno accettare che tu stesso menti a te stesso. Dovranno essere più che dei genitori. Dovranno avere il coraggio di lasciare che il proprio figlio prenda il volo, correndo anche il rischio di cadere. Finalmente sei pronto. Tutte le difficoltà che hai vissuto, finalmente sei pronta, le stringi tutte tra le mani. Non sono tutte superate. Non ci nudiamo di ciò. E anche tu sai che non è così. Ma le hai conosciute. E hai preso quella che è la tua croce, la tua personalissima croce, e la stai trasportando. Arriverà il punto in cui la pianterai a terra e semplicemente diventerà meridiana, con il sole che in alto splende e ti darà l'indicazione del tuo tempo e del fatto che in quel momento è giunto il tempo di iniziare una nuova vita. Quando tutte le difficoltà finalmente saranno ricollocate in un ordine di senso, tale da permetterti di comprendere il passato, ecco in quel momento avrai la capacità e la forza di poter prevedere anche il tuo futuro. E allora le tue ali saranno veramente forti e potrai alzarti e potrai sollevarti sul labirinto di confusione che a volte ti ha costretto proprio fisicamente in uno spazio angusto. E quelle ali non si scioglieranno perché non c'è cera a tenere assieme le piume. Quelle ali sono proprio i muscoli che hai rafforzato grazie a tutte le cadute vissute, grazie a tutte quelle esperienze in cui toccando terra ti sei dovuto rialzare. E come detto poco fa, rialzandoti è grazie a quelle esperienze che cambiando nuovamente il tuo punto di vista ogni volta hai percepito la tua crescita e la tua ascesa. Quindi non temere, sii pronto. Ora che hai conosciuto le tue energie, ora che hai conosciuto le energie che ti gestiscono, o meglio che ti sono vicine ora che sai riconoscere la mano che hai sulla tua spalla e ora che sai anche che persino quei momenti che possono sembrare mossi da intenzioni non del tutto pacifiche. Ecco, anche quelli sono fantasmi dovuti al modo in cui a volte li si interpreta perché non c'è un bene, non c'è un male assoluto. C'è solo una possibilità di declinare queste forze in modo corretto sbagliato a seconda del momento. Sii quindi abbastanza lungimirante e non ubriaco di troppi desideri e troppe speranze. Resta lucido, resta lucida e guarda davanti a te e ascolta i tuoi consiglieri e sappi trovare la media tra i consigli che ti giungono all'orecchio interiore e non avere mai paura perché c'è qualcuno che veglia su di te. Apriti al prossimo, non tirarti indietro, non creare divisioni, ma crea punti, collegamenti, creali materialmente e creali anche semplicemente con un gesto, congiungi e non separare perché è l'unione che fa la forza e la fa davvero quando quest'unione è sincera ed è volta ad ampliare la propria presenza in questa epoca e su questa terra perché in fondo ogni qualvolta due persone sono riunite nel mio nome nel nome di ciò che muove il mondo ovvero di amore io sono in mezzo a loro quindi ricorda questa cosa e non ti dividere mai non sei lì per attaccare sii pronto a difenderti semmai sarà necessario ma quella spada usala solo per osservarla e per vederti riflesso nella sua lama per dividere dentro di te le forze che a volte in maniera caotica generano uno stato di confusione allora in quel caso e in quel frangente dividere diventerà un'azione positiva perché perché ti permetterà di distinguere e distinguendo potrai ordinare ordinando saprai in maniera perfetta quali sono le tue risorse quali sono i tuoi limiti e potrai sfruttarli se avessi tutti i colori della tua tavolozza mescolati assieme vedresti solo una tonalità scura molto brutta se invece hai la capacità dentro il tuo cuore e nella tua mente di separare tutti i colori ecco che hai una miriade di possibilità per dipingere scenari meravigliosi ma non usare mai quella spada al di fuori del tuo lavoro interiore non dividere mai ciò che su questa terra cerca solo armonia quindi ricorda sempre fa che quella spada diventi un monito che sia semplicemente la croce che una volta piantata a terra viene estratta da Re Artù che ormai si è diventato non più un ragazzino non più solo bensì indipendente a volte solitario ma solitario come sanno essere i rapaci regali quegli animali che in fondo vogliono alzarsi talmente tanto sui comuni destini umani perché vogliono veramente provare a toccare o semplicemente intuire la presenza di Dio che accettano anche la solitudine quella più estrema per raggiungere provvette che sono invidiate da tutti coloro che in fondo non riescono neppure ad alzare il capo sii pronto dunque e continuo a lavorare lascia che le energie che ti circondano ti aiutino e non credere che ce ne siano di ostili a volte il diavolo è cattivo solo perché nessuno li vuole bene così pare che be' a scrivere un giorno Mare Teresa Mare Teresa